Arrestati due componenti di una baby gang responsabile di estorsioni, rapine e spazio. Questa mattina la compagnia di Padova, il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova, la stazione di Padova principale, ha eseguito due misure di ordine di custode cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei capi, diciamo, di una baby gang che imperversava nelle vie di Padova commettendo rapine ed estorsioni in danno di minorenni. In una circostanza è stata anche acclarata la responsabilità da parte dei soggetti di cessione di sostanze stupefacenti sempre in favore dei minori. Diciamo che l'indagine prende avvio grazie alla sensibilità e all'intudo investigativo di una pattuglia dei carabinieri che casualmente controlla per strada quest'inverno un giovane, un 18enne che vedendo i militari si confida di essere vittima di atti di bullismo perché tali per lui venivano, diciamo, giudicati queste violenze. Successivamente invece quindi è stata avviata un'attività di indagine che ha permesso di accertare che non si trattava soltanto di minacce o atti di bullismo, diciamo, semplici, bensì di vere e proprie estorsioni e rapine commesse anche con l'utilizzo di armi da taglio. Voi oggi diffondete le foto di questi due giovani nella speranza che chi li riconosca e chi abbia subito delle rapine o estorsioni li segnali alle forze dell'ordine. Senz'altro il nostro auspicio principale è quello appunto che molti giovani e probabilmente diverse vittime minorenni possono avere oggi il coraggio vedendo le foto degli arrestati di farsi avanti e venire qui in Caserma dei Carabinieri a denunciare le angherie e i reati per i quali sono stati insomma vittime.